no! sei impazzito! come fai ad allenarti con così poco calcio? cerca l'acqua giusta meno sodio per assorbire più calcio! ancora e vattene! Emo, comodi? che buona! possiamo tornare ad allenarci adesso? e quello lo chiami allenamento? acqua lette con più calcio e meno sodio soddisfa tutte le cellule anche le più incontentabili